Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Come ho detto prima sono entrati alla grande i ragazzi per i pezzi, oltre a fare una bella mattina ha fatto un gran gol. Alberto, lo conosciamo tutti, è un grande giocatore. Mi auguro che possa andare al Mondiale perché se lo vedete. Tu stai facendo molto bene, è una stagione importante. Non si parla poco, ma sono un giocatore di quelli che hanno avuto. Faccio il lavoro scuro io, no scherzo. Sto facendo bene tutta la squadra. Sono felicissimo di stare qua, l'ho sempre detto fin dal primo giorno che ho messo piede a Genoa. Questo mi dà molta carica. Poi quando senti che i compagni ti stimano tantissimo, la società, l'allenatore ti stimano, allora questo mi fa caricare. Senti, da domani si pensa al Teron. Affrontate una squadra che sembra in caduta libera. Sono una squadra difficile da affrontare, una buona squadra. Sappiamo che è una partita difficilissima, però andiamo là cercando di fare la nostra partita come sempre. Dopo vediamo cosa ne esce. Grazie. Grazie. Grazie.